Gurentag ragazzi e benvenuti o bentornati sul canale oggi scopriamo dove prendere tutte le 20 informazioni nascoste nell'operazione speciale area interdetta mi raccomando di iscriverti se non sei già iscritto e iniziamo innanzitutto dobbiamo raccogliere il contatore Geiger che possiamo trovare a pochi passi dallo spawn questo oggetto ci servirà per prendere diverse informazioni la prima è proprio qui in zona e la possiamo prendere giusto appunto usando il contatore Geiger più il livello di radiazioni aumenta e più siamo vicini all'informazione lo spawn è sempre in questa zona ma il punto preciso cambia di partita in partita la seconda è al sito A, su questo sgabello la terza ha due punti di spawn, può essere o qui o come nel mio caso qui la quarta è più in basso nella mappa in questo edificio la quinta è in questo palazzo entriamo per di qua la sesta è nello stesso palazzo ma proprio in cima alla torre la settima è in questa casa al piano superiore l'ottava è in quest'altro edificio di nuovo al piano superiore la nona è più in basso nella mappa ma sempre al piano superiore la decima e l'undicesima sono al sito D una proprio qui e l'altra andando al piano superiore di questa casa sempre su D troviamo anche la dodicesima la posizione esatta la possiamo trovare grazie al contatore Geiger la tredicesima ha due punti di spawn uno qui su D e uno su C esattamente qui per la quattordicesima spostiamoci in questo punto e la vedremo sul tetto di questa casa la quindicesima è precisamente in questa zona circa dove la strada curva per trovare la posizione precisa usiamo il contatore Geiger la sedicesima è in questa zona scura della mappa di nuovo utilizziamo il contatore Geiger per capire la posizione esatta la diciassettesima e la diciottesima sono su C esattamente in questi due punti in questo caso infine la diciannovesima e la ventesima sono sul sito B la diciannovesima ha due punti di spawn ed è su uno di questi due tavoli mentre la ventesima è proprio attaccata al sito e questo era il tutorial su come prendere tutte le 20 informazioni presenti in area interdetta spero che questo video ti sia piaciuto ma che soprattutto ti sia stato utile iscriviti al canale se non sei già iscritto e noi ci rivediamo molto molto presto con un nuovo video Auf Wiedersehen a presto 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 Autore dei sorrisi